Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Lo Sconosciuto e bentornati in una nuova recensione. Oggi voglio parlarvi della sesta ed ultima stagione di House of Cards, che è recentemente uscita. È un video extra, possiamo dire, sulle serie tv, magari interesserà a pochi, ma ci tenevo, perché House of Cards è una delle mie serie preferite e non potevo non parlare della sua conclusione. Ovviamente la recensione sarà spoiler, compresa la sesta stagione, lo sapete, dopo la prima stagione di una serie faccio sempre spoiler, quindi se ancora non l'avete vista, assolutamente chiudete. Direi di non perderci in ulteriori chiacchiere, possiamo iniziare prima in descrizione, se vi va, passate a vedere i vari link dei social, Facebook, Instagram e Telegram. Partiamo quindi. I fan si chiedevano, questa sesta stagione di House of Cards, senza il personaggio di Frank Underwood, dopo appunto l'uscita di scena di Kevin Spacey, sarebbe riuscita a concludere bene questa serie, che ci aveva appassionato durante tutti questi anni e sarebbe riuscita a rendere importante e protagonista in una maniera giusta il personaggio di Claire Underwood? Era questa la domanda più grande, c'erano tante cose da fare e tanti quesiti. Per quanto riguarda l'uscita di scena di Kevin Spacey, non voglio discutere sul fatto in sé, ma sulla riflessione che ha avuto sulla serie. È stato comunque un dispiacere perché non vedere più il protagonista, Frank Underwood, dispiaceva molto e inoltre dispiaceva perché la quinta stagione dava una ventata di aria fresca con quel finale in cui Francis sembrava perdere il controllo ma in realtà aveva tutto un piano per ottenere un nuovo tipo di potere. Purtroppo non sapremo mai quale sarà questo nuovo tipo di potere e questa è un po' una mancanza. Però c'era il fatto che Claire Underwood è stata resa ancora più protagonista. È stata un po' anche una fortuna per gli sceneggiatori perché questo poteva benissimo giustificare un'uscita di scena del protagonista Frank e un'entrata in scena come protagonista di Claire. E così è stato. Secondo me comunque il fattore abbandono che Vin Spacey e Claire Underwood, ovvero la grandissima Robin Wright protagonista, non è stato assolutamente un fattore negativo ed è stato proposto bene più o meno all'inizio della serie, giustificato con la morte di Frank e Claire diventa ovviamente protagonista e presidente. Fin qua tutto bene. Lui è stato eclissato nella maniera più normale e giusta possibile, lei è stata resa protagonista con il giusto espediente, però ci sono delle cose che poi vanno a rovinare, secondo me, questa sesta stagione in quanto l'incipit funziona, come ho detto, ma non funziona lo svolgimento. La serie inizia bene e poi va a sfaldarsi sempre di più. Il problema, secondo me, ovviamente, è la scrittura della storia. La sceneggiatura non è così funzionante. Ci sono troppi eventi troppo slegati tra loro, troppe macchinazioni, troppe complicazioni poco chiare. Molto spesso, quando accade una cosa, poi si passa subito ad un'altra senza collegarle troppo bene. Un elemento che era sempre presente nella serie di House of Cards, ovvero i salti temporali in avanti, non sono giustificati come accadeva prima. vengono spesso proposti dei colpi di scena, secondo me, un po' troppo esagerati, che vengono mal contestualizzati. Non hai mai il tempo di digerire un evento e di assimilarlo per poi passare a quello successivo. Viene fatto tutto troppo di fretta. Forse gli otto episodi sono anche troppo pochi. Sinceramente, ci sono stati dei colpi di scena che potevano essere potenti, ma non sono stati resi bene, come ad esempio, non so, ne cito alcuni, la stessa Claire Underwood che rimane incinta. Troppe, veramente troppe macchinazioni per uccidere delle persone. Si è andati anche un po' a esagerare, secondo me, per certi elementi che c'erano nelle altre stagioni di House of Cards, ma erano un po' più rari e proposti in una maniera un po' più decente, contestualizzati un po' meglio, inseriti meglio nella trama, resi in maniera un po' più credibile. Invece qua si sfocia proprio nell'esagerazione, ma anche altri colpi di scena che non funzionano. Il fatto che Francis è stato assassinato è una cosa principale che però viene poi dimenticata per essere ricordata solo nel finale. Addirittura si arriva a parlare di codici nucleari, secondo me sfociando anche un po' nel trash. Nelle altre stagioni c'era più contegno. Quando c'era un'esagerazione era ben spiegata e contestualizzata, invece qua non è stato così. Claire come protagonista funziona anche bene, ovviamente Robin Wright l'interpreta in maniera magistrale, ma il personaggio vive della sua cattiveria, della sua potenza che abbiamo visto nelle scorse stagioni e non per quello che vediamo in questa stagione, perché in questa sesta il personaggio di Claire è utilizzato, secondo me, male. È protagonista, ok, è temibile, ma la sua evoluzione è confusionaria, le scelte che fa spesso sono in contraddizione con quello che era prima, lo sfondamento della quarta parete è fatto secondo me in maniera troppo esagerata per proporre degli spiegoni, invece che essere utilizzato per aumentare la potenza di questo personaggio, viene utilizzato per spiegare le cose, ed è una cosa fastidiosissima. quando Kevin Spacey e anche ovviamente Robin Wright sfondavano la quarta parete nell'ultima stagione e in quelle precedenti, la cosa avveniva nel momento giusto, quando serviva e aveva uno scopo preciso, come avevo detto. Lo scopo di House of Cards era mostrarti l'ascesa di questi personaggi, anche i loro errori, e farti venire come loro la sete di ottenere potere politico. Non è mai stata, o in generale potere, non è mai stata una serie che voleva, come dire, criticare il loro operato. Logico, non pensi mai che il loro operato sia giusto, la serie non ti dice mai che il loro operato è giusto, ma è una serie che principalmente vuole accompagnarti nel loro voler ottenere potere. E in questo è molto potente, perché è anche una serie contraddittoria e che porta lo spettatore a un pochettino a pensare male. Per poi, quando esce dalla serie, pensare, ok, quello che fanno loro è terribile. Ma mentre io guardavo la serie, volevo che loro ottenessero potere, quasi tifavo per loro. Questo è sempre come l'ho vista io, poi magari altri l'hanno vista in maniera diversa. Ma non l'ho mai guardata come una serie critica, ma una serie molto più dimostrativa, una serie che vuol far vedere come funziona quel mondo lì, della politica americana e così via. E questo, secondo me, non riesce in questa sesta stagione, dove si sfocia molto spesso nella semplicità, nella banalità, a volte anche nel trash. Si arriva ad un punto un po' morto, che a volte può anche annoiare e rende confuso lo spettatore. Ci sono momenti in cui non si capisce bene cosa vogliono fare i personaggi. I personaggi secondari, sia vecchi che nuovi, non mi sono piaciuti in generale. Hanno un'evoluzione sbagliata, non si capisce il loro modo di pensare, si vede che sono delle semplici spalle, possiamo dire. L'unico che continuo ad apprezzare è il personaggio di Doug Stamper, che secondo me è l'unico che rimane coerente dall'inizio alla fine, soprattutto sul finale. Mi è piaciuto comunque la scelta che hanno fatto per questo personaggio di renderlo così attaccato a Frank e alla fine ci muore per questo e soffre perché lui stesso voleva preservare la faccia di Frank uccidendolo. E questa cosa mi è piaciuta veramente tanto perché è il giusto comportamento che dovrebbe avere questo personaggio molto indiscutibile, un personaggio sicuramente un po' fuori dalla norma, un po' particolare, che ha sempre compiuto brutte azioni e continua a farlo, continua ad essere se stesso, evolvendosi anche, raccontando qualcosa di più. Ma è secondo me l'unico personaggio che è quello che è sempre stato. La cattiveria è raggiunta dal personaggio di Claire nella quinta stagione, l'importanza è raggiunta, purtroppo non sono state sfruttate bene, il passaggio di testimone è avvenuto ma poi non ha avuto una continuità e questa cosa mi è dispiaciuta molto. Anche tutti i discorsi di rivalsa femminile che lei attua durante la stagione sono un po' forzati secondo me, ci sono... cioè si calca troppo la mano, mentre prima, come dire, il potere femminile di Claire Underwood era sempre proposto in una maniera azzecatissima nelle scorse stagioni. Lei voleva scrollarsi di dosso la figura di Frank e lo faceva in una certa maniera, coerente con se stessa. Invece in questa stessa stagione lo vuole fare però in una maniera un po' scontata, un po' banale. Il discorso della rivalsa femminile che attua a questo personaggio è proposto troppo semplicemente. Non c'è la potenza, la particolarità, lo spessore che c'era invece nelle scorse stagioni. Claire proprio andava contro allo stereotipo del personaggio femminile perché era cattiva, poteva essere cattiva a volte quasi quanto un uomo, anzi a volte più del suo stesso marito. E questo era un profondo messaggio in un personaggio femminile. E qui questo tipo di messaggio viene proposto secondo me male. E vengono anche proposti secondo me a volte degli stereotipi sul genere femminile sbagliatissimi. La scena in cui lei decide di formare un governo tutto femminile aveva un potenziale dietro ma è stato proposto in una maniera troppo esagerata, poco credibile. Una cosa così nella realtà non accadrebbe mai così repentinamente, così massicciamente. è stato un po' come dire hanno calcato tanto la mano in quella scena sul Politically Correct. Cosa che in House of Cards non era mai stata fatta, ma anzi era una serie che sapeva far valere i personaggi femminili senza calcare la mano sul Politically Correct e in questa stessa stagione invece lo hanno fatto. Anche il lato tecnico, non è che mi è piaciuto tanto, la fotografia troppo lucente, forse perché volevano proporre così il personaggio di Claire in quanto femminile, ma a volte si raggiunge un livello un po' di così, di fotografia veramente troppo sparata. La serie tv melenza italiana da un posto al sole che io sempre utilizzo per questi esempi e anche la regia, il montaggio spesso sono un po' confusionari. Non è una serie che va dritta al punto, sicuramente cerca anche strade complicate ma non le intraprende bene. Questa stagione vuole fare troppe cose e cerca di farle uscendo dallo stile delle scorse stagioni e cerca di farlo anche in una maniera complicata, poteva anche essere molto più semplice e anche più soddisfacente. Vuole cambiare il protagonista, giustamente, vuole evolvere il protagonista, vuole concludere la serie, vuole giustificare la scomparsa del protagonista precedente, vuole mostrare una rivalsa del personaggio di protagonista ovvero Claire, tantissime cose che si potevano fare con più tempo, secondo me, non solo con otto episodi e soprattutto si potevano fare con un lato tecnico un po' più impegnato, un po' più riuscito e con una sceneggiatura più semplice che rispettasse le linee guida delle scorse stagioni. Ripeto, la colpa della non riuscita di questa sesta stagione di House of Cards non è da attribuire al personaggio di Claire che diventa protagonista, non è da attribuire alla scomparsa del personaggio di Frank, è da attribuire solamente a un lato tecnico non perfetto e a una sceneggiatura scritta, secondo me è veramente male e con poco rispetto e considerazione di quello che c'è stato prima nelle scorse stagioni. Quindi per me è una stagione veramente deludente. Questo va a rovinare la serie? Secondo me no, perché comunque le prime 5 stagioni di House of Cards sono validissime, è una serie che continua a funzionare e poi questa stagione si può anche considerare un po' a sé e quindi può anche essere così dimenticata. Sicuramente questo abbassa un pochettino la riuscita totale della serie ma capisco che anche c'è stata la problematica dell'allontanamento di Kevin Spacey che non è stato sicuramente preventivato, era una cosa anche difficile da gestire e purtroppo non ci sono riusciti. Quindi per me House of Cards rimane lì nell'Olimpo delle migliori serie di questi ultimi anni, rimane una delle mie serie preferite per cato per questa ultima stagione che un po' rovina, ripeto, la riuscita totale ma non rovina assolutamente l'importanza di House of Cards che rimarrà una delle migliori serie, ripeto, soprattutto nel suo genere politico, thriller e rimane una serie molto particolare. Non ci sono altre serie come lei, secondo me. Nel suo genere è veramente peculiare. Questo è quanto c'è tanto dispiacere perché purtroppo House of Cards ripeto, oggi sto ripetendo tante cose, è una delle mie serie preferite e ci sono rimasto male soprattutto per come hanno sprecato la potenzialità del personaggio di Claire però comunque spero di dimenticarmene abbastanza facilmente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti se seguite la serie se avete visto questa sesta stagione spero di sì perché sennò vi siete spoilerati tutto e ditemi se vi è piaciuta se invece voi avete apprezzato questa conclusione. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento grazie per l'attenzione alla prossima ciao a tutti grazie a tutti